ANSA, Roma, 13-8, grazie alle persone che in questi giorni hanno seguito con attenzione ciò che è accaduto dentro l'aula di Montecitorio. Sono le migliaia di persone, che sono state fuori, a pochi metri da noi, e che in poche ore hanno risposto al nostro appello, e sono a corse a Roma. E sono tutti gli italiani che ci hanno seguito in diretta streaming. Tutti loro, non importa se del Movimento 5 Stelle o no, hanno a cuore la stessa cosa. La nostra democrazia. Lo scrive il candidato premier M5S Luigi Di Maio su Facebook.